buonasera a tutti quanti e anche oggi piove come sempre normalissimo piove ora siamo in odunno a freddo la macchina dice sono 18 16 gradi e mezzo dice ok vediamo qui al termometro quanti gradi hanno 23 49 minuti sono 14 gradi oggi è giovedì 3 ottobre 2024 alle ore 23 45 23 45 minuti ci sono 14 gradi sono due gradi di differenza vabbè vi auguro una buona notte a tutti quanti ci sentiamo mani ciao ciao